Ben ritrovati cari amici, un saluto a tutti voi e benvenuti. Il gruppo Progetto che ci ospita, siamo nella concessionaria nella sede di Collegno, incontriamo il volto televisivo dell'azienda Sergio Lai. Ciao Sergio. Ciao Stefano e ben ritrovato a tutti. Allora, intanto diamo le coordinate, conosciamo le dimensioni, conosciamo le tante concessionarie del gruppo Progetto, ci troviamo a Collegno, esattamente? Esattamente, il Corso Francia 222, facilmente raggiungibile la tangenziale e anche la centrocità. Io voglio ricordare che ovviamente qui non avrete problemi di parcheggio, il gruppo Progetto vi aspetta con apertura non stop, sette giorni su sette, domenica compresa e io voglio dire subito che questa è una concessionaria, una sede dedicata al risparmio. Perché Sergio? Assolutamente sì, dedicata al risparmio perché abbiamo tantissimi chilometri zero, aziendali e macchine usate. Venite a trovarci, troverete la vostra soluzione sicuramente. Bene, soprattutto c'è grandissimo assortimento, vetture davvero di tutte le marche, di tutti i segmenti, potrete dare spazio ai vostri desideri e sicuramente troverete l'auto che fa al caso vostro. Se non ci credete, restate con noi, le proposte, firmate Progetto. E partiamo subito con una delle vetture più richieste, una vera e propria regginetta indiscussa del mercato, Lancia Y, parliamo di chilometri zero, richiestissima. Assolutamente, questa è una Lancia Y, chilometri zero, 1.269 cavalli, il prezzo è 8.950, qui includiamo anche la voltura e la garanzia. Clima, radio, comando a volante, rutino e sensore di parcheggio. Altro modello, e devo dire in questo caso parliamo di una delle vetture più vendute in assoluto, è la Fiat Panda ed è nuova aziendale, quindi attenzione alla richiesta del gruppo Progetto. Questa è una vettura veramente molto interessante, è una Panda aziendale, quindi sono macchine usate con pochissimi chilometri, sempre con garanzia ufficiale della casa e voltura compresa nel prezzo. Questa è una vettura da 6.450, possibilità di finanziamento e personalizziamo anche l'assicurazione con mini collisione e casco. Noi ci spostiamo su una Fiat 500, non poteva mancare sicuramente, questa è una vettura chilometri zero, molto bella. Un risparmio veramente interessante su questa 500 rispetto al nuovo, questa è una vettura 1.300, multijet, 95 cavalli, lounge, quindi vuol dire super accessoriata. Il prezzo è interessantissimo, 13.200 euro, anche qui compreso già di voltura. Bene, andiamo sulle vetture targate, quindi l'usato, ma vetture d'occasione vere e proprie, selezionate e garantite gruppo Progetto. E non parliamo soltanto di vetture del gruppo FCA, questa è una Mazda, una berlina. Questa è una Mazda berlina, 5 porte, è un 1.500, 100 cavalli benzina del 2018 e ha soltanto 2.500 chilometri. Il prezzo è interessantissimo, 17.500 euro, voltura compresa e garanzia. Davvero molto bella, molto comoda e tra l'altro attenzione perché è praticamente nuova, 2.500 chilometri percorsi soltanto. Ora andiamo nella casa di Arese, protagonista allo scudetto Alfa Romeo, vediamo una Giulietta e una vettura targata, quindi un usato, e mi dicono che in questo momento c'è la possibilità di scegliere, non è la sola. Assolutamente sì, ne abbiamo vari colori, l'allestimento è la super, quindi la versione più accessoriata. Sono vetture 1.600 JTD, quindi multijet, 120 cavalli. Il prezzo qui è veramente stratosferico, 16.500 euro, compreso già di voltura e garanzia ufficiale della casa. Proseguiamo ancora, questa è una vettura perfetta per la famiglia, per chi vuole viaggiare comodo, è la nuova Fiat Tipo ed è l'allestimento lounge. Esattamente, questo è l'allestimento lounge, quindi versione full option, con clima automatico, cerchi lega da 17, sensori di parcheggio posteriori, radio touchscreen da 7 pollici, fendinebbia, cruise control e bluetooth. Il prezzo qui è veramente interessante, 15.200 euro, comprensivo già di voltura e sempre la garanzia, è un 2017. Bene, adesso è un veicolo assolutamente versatile e anche difficile da reperire nel mercato. È un cubo trekking, quindi perfetto per il tempo libero, per il lavoro, dove volete. Assolutamente sì, questo è un cubo trekking 1.3 multijet, 95 cavalli, comprensivo di climatizzatore, radio touchscreen con navigatore, cruise control, fendinebbia, cerchi in lega, bracciolo, barre sul tetto. Il prezzo è veramente interessantissimo, 16.900 euro, voltura compresa. E torniamo a parlare di Fiat Tipo, in questo momento nei saloni gruppo progetto a Collegno, in Corso Francia, potete scegliere anche la vettura e il colore che preferite. Non manca la station wagon, vero? Assolutamente sì, questa che vediamo è una Tipo station wagon, chilometro zero, è 1.620 cavalli, comprensivo di climatizzatore, radio bluetooth, comandi al volante, fendinebbia, sensore di parcheggio. Anche qui il prezzo è veramente molto molto interessante, 16.900 euro. Una delle vetture che mi piacciono di più, devo ammetterlo, è una Fiat 500 L, la vedete in due colori di carrozzeria, magnifici davvero, scegliete quello che preferite e noi vi presentiamo questa perché c'è un'offerta commerciale da non perdere. Assolutamente molto interessante, questa è una 500 L, la versione cross, 1.3 multijet, 95 cavalli. Il prezzo veramente qui è stratosferico per 16.650 euro, comprensivo già di voltura. Bene, non poteva mancare Fiat 500X, questa è una cross, attenzione, 2019 è un usato, occhio al prezzo. Questo è un usato pari al nuovo perché è una 500X cross 1.6 multijet con climatizzatore, cerchi in lega, cruise control, bluetooth, radio touchscreen 7 pollici e il prezzo qui è veramente interessantissimo, 14.900 euro, voltura compresa, del 2019. Bene, abbiamo visto le vetture, avete potuto notare che questa azienda mantiene sempre le promesse fatte, puntata all'insegna del risparmio, vetture molto richieste, chilometri zero, aziendali, vetture targate praticamente nuove, non mancava nulla. Abbiamo le coordinate, dove trovarle? Assolutamente, ci troviamo in Corso Francia 222 a Collegno. Bene, io ricordo che questa azienda è aperta 7 giorni su 7, domenica compresa, ci saranno i colleghi di Sergio Lai ad accogliervi, non mancate, se non avete visto l'auto che stavate cercando, ce ne sono altre che non abbiamo avuto tempo di mostrarvi nella nostra vettrina televisiva. Grazie Sergio, ci rivediamo la prossima volta in TV. Ciao Stefania, un saluto a tutti. Io ringrazio il gruppo Progetto per la preziosa collaborazione, noi ci rivediamo, alla prossima.